Il presidente della provincia di Teramo, Diego di Bonaventura, vuole chiarezza sul tema della sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso. Per questo motivo ha inviato una nota al presidente della Repubblica, Mattarella, ai ministeri competenti, all'Istituto di Fisica Nucleare, alle regioni Abruzzo e Lazio, agli enti locali, al Ruzzo e alla Procura della Repubblica, per sollevare diverse questioni, soprattutto alla luce dei rilievi formalizzati dalla magistratura inquirente. Io sono sindaco della mia comunità di Notaresco e ricomincio da dove mi sono fermato. Da sindaco ho fatto quello che dovevo fare per tutelare i miei 7.000 abitanti, adesso da presidente della provincia continuo solo in un interesse, quello di tutelare la salute pubblica, il territorio e i cittadini. Ecco, ricomincio da lì, ho fatto quella lettera scrivendo a chi oggi può intervenire e mi sono rivolto alla regione Abruzzo, al Ministero e alle autostrade, perché hanno appena rifatto i piani economici e finanziari e devono capire che su questa zona, sulla nostra provincia, c'è un problema reale, che non è irrisolvibile. Si può risolvere con un progetto serio e mettendoci subito dei finanziamenti seri. E lo dico qui pubblicamente, la Ruzzo Reti, che è la società dei sindaci, che a sua volta rappresentano i cittadini, è parte l'esa in questa vicenda, perché per colpa di altri oggi la Ruzzo deve spendere un milione di euro per fare l'analisi sistematicamente e quel milione di euro oggi per colpa di altri lo paghiamo noi sulle bollette dei cittadini. Il mio ruolo, quello da Presidente, è di difendere i cittadini, le nostre società e i territori. Perciò ricomincio da qui, a breve convocheremo un'assemblea dei sindaci e la Ruzzo, perché insieme dobbiamo determinare un'azione importante sui nostri territori. La salute pubblica, la difesa della provincia viene prima di altro ogni interesse.